Benvenuti, sono Andrea Baldrati, avvocato e co-founder di Privacy Network, un'associazione che riunisce professionisti e appassionati di privacy, cyber security, ma non solo, perché da sempre abbiamo a cuore temi come la tutela dei diritti fondamentali e l'impatto su di essi delle nuove tecnologie. Oggi abbiamo il grande piacere di intervistare Luciano Floridi, professore di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford, direttore del Digital Ethics Lab. Il professor Floridi ha collaborato e collabora attualmente con la Commissione Europea per delineare un quadro etico nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E' infatti uno dei più autorevoli pensatori sulla delicata ma cruciale relazione tra innovazione ed etica. Con me ci sono Matteo Navazzi, co-founder di Privacy Network e consulente privacy, e di Letta Icecase, membro di Privacy Network e studioso di filosofia ed etica digitale. Innanzitutto, professore, la ringraziamo per essere qui con noi, per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito, invece. Grazie. L'intervista di oggi, professore, si colloca all'interno della prima edizione della Robot Weekend, che è nata d'impulso, di getto, dopo aver visto alcune immagini che ci hanno un po' scorse, in particolare l'utilizzo di Spot, il cane robot realizzato dalla Boston Dynamics, da parte del governo di Singapore, per controllare i cittadini e assicurare il distanziamento sociale. Ecco, professore, non gli sembra che il Covid stia diventando anche un pretesto per avviare una politica globale di controllo di massa? A me sembra che in qualche punto del nostro pianeta questo pretesto ci sia e venga colto con tanto piacere. Mi pare anche che sia vero al contempo, non al contrario, forse anche la tendenza, se volete, opposta. Cioè, che in realtà questa pandemia stia polarizzando, da un lato, chi vuole sfruttare la tecnologia, cogliendo al bazzo questa opportunità per esacerbare, se volete, una mancanza di democrazia, quindi un controllo a volte populista, a volte forse vagamente dittatoriale, spesso poco democratico. Ma al contempo ci sia anche la possibilità di una reazione molto forte, molto robusta, diciamo sana, da un punto di vista democratico. Un paio di esempi, così per avere come un controaltare al robottino di Singapore, la discussione sulla app in Francia avverrà in Parlamento, non sarà una decisione presa dall'esecutivo soltanto. Ecco, questo quando io ho collaborato un po' con la Commissione Etica per la app francese anche, e questo mi è sembrato un ottimo segnale di coinvolgimento democratico, perché si tratta di fare, per semplificare un po', un sacrificio da parte di tutti, è bene che tutti partecipino. È un po' strano che un sacrificio globale venga deciso soltanto da qualcuno. Ecco, questo quindi, tanto per dare un controesempio all'utilizzo della tecnologia, potrebbe essere sicuramente dannoso nei confronti della democrazia, d'altra parte lì dove non c'è il controllo della tecnologia, nel senso che è la tecnologia che controlla, ma c'è il controllo della tecnologia, nel senso che qualcuno la controlla, e di Francia o altri esempi del genere, abbiamo anche l'esempio opposto. Allora, per sintetizzare, vedrei una polarizzazione di tendenze già presenti. Allora, l'ultima battuta qui è relativa sempre alla app, di cui si parla molto in questi giorni, la discussione sull'app avviene anche in relazione all'API che sarà fornito ormai a tempi brevissimi, credo, dalla Apple e da Google insieme. Alcune argomentazioni lì cominciano a diventare molto interessanti, perché, e poi magari ne parliamo dopo, entriamo in una fase in cui le multinazionali decidono la politica, oppure, ma no, anzi al contrario, e se poi loro non intervenissero, noi come facciamo, o meglio ancora, non è la stessa tecnologia che tu utilizzi se stai in Italia o in Ungheria, tanto per essere chiari. Ecco, su questo forse bisogna riflettere. Appunto, proprio sulla scia di questa sua risposta, le vorrei chiedere, proprio nei paesi europei, dove noi siamo abituati a vivere, stiamo vedendo che nelle ultime settimane stiamo assistendo a un dibattito che prima non era mai esistito, quindi su app, braccialetti, di tracciamento, robot, facendoli diventare qualcosa che prima era oscuro alla nostra quotidianità, a qualcosa di quasi centrale, vorrei dire. Si è parlato anche molto di soluzionismo tecnologico, facendolo diventare un'urgenza che, come diceva lei, in alcuni paesi viene deciso un democraticamente, mentre in altri comunque è stata vista come la scelta migliore solo da parte di un gruppo ristretto di persone. Lei crede che sia giustificata questa fiducia incondizionata in ogni caso nella tecnologia e nel ruolo che può avere nello sconfiggere il virus? Ecco, su questo inizierei con un piccolo distinguo, perché la risposta è sicuramente no. Tuttavia, bisogna capire anche se sia comprensibile, oltre che giustificata. È comprensibile almeno per due ragioni, diciamo così, per semplificare. Uno, perché stiamo cercando una soluzione a tutti i costi, chiunque. Di fronte a una tragedia così vasta, e soprattutto con una capacità di colpire chiunque in maniera poco chiara, insomma c'è molta incertezza e molta paura, ci si aggrappa a qualsiasi soluzionismo, tecnologico o religioso, o, diciamo così, pseudoscientifico. Abbiamo il Presidente degli Stati Uniti che beve cose e inghiotte pastiche, assolente dubbie, quindi voglio dire, di soluzionismo ormai. Allora, quello tecnologico, ed è la seconda ragione, lo avevamo già lì, disponibile. Ma quanti anni sono? E devo dire, io ho cercato di fare il grillo parlante da parecchio ormai, per cui l'intelligenza artificiale avrebbe risolto qualsiasi problema, anzi, avrebbe creato qualsiasi problema, di nuovo, polarizzazione, ma comunque era l'intelligenza artificiale che faceva tutto e il contrario di tutto. Ma poco prima era il cloud computing, era la internet of things, era il big data, eccetera, eccetera. Allora, ogni volta che è venuta fuori una tecnologia nuova, noi abbiamo deciso come società di assecondare un po' la narrativa facilona del giornalista di turno, del tecnocrate, del politico mezzo informata, mezzo no, mezzo informato, e soprattutto dell'azienda che doveva vendere il prodotto, che quello avrebbe finalmente, posto la parola fine alla storia, se ricordate quel famoso libro sbagliato, la fine della storia. Ecco, la tecnologia non fa questo, non l'ha mai fatto, in caso, come dicevamo prima, o polarizza e rende certi problemi più acuti, o ne genera di nuovi, insieme a tante soluzioni. Insomma, con una parolina forse un po' troppo forte, rende la vita un po' più complessa, nel bene e nel male. Ma è la governance che ci sta dietro, che fa la differenza. Anche qua, devo dire, a me mi dispiace tanto perché sei un po' uno dei filosofi italiani che se ne escono sempre, l'avevo detto io. Purtroppo però, sulla governance del digitale, è da tempo che lo stiamo dicendo, io saranno almeno cinque anni che continuo a guardare che non è l'innovazione tecnologica, non è, detta in inglese viene meglio, digital innovation, ma è la governance del digital che fa la differenza. Sarà lì che l'Europa avrà un progetto futuro, oppure no? Che l'Italia potrà ripartire come un paese, oppure no? L'innovazione tecnologica, il braccialetto, il pendaglino, la cosina di qua e di là, quella è importante, ci si fa anche un sacco di soldi sopra, ci mancherebbe, ma non è quello che determinerà il futuro del progetto umano per il ventunesimo secolo. Ecco, se uno vuole essere un po' robusto, un po' robusta nel suo modo di pensare, bisogna proprio partire dalla domanda che lei mi ha posto, di rispondere subito no, e allora? E allora che facciamo? Perché la soluzione non è tecnologica. Ecco, vi assicuro che stando sia a contatto con quelli che stanno sviluppando l'app, ad esempio in Italia, sia a contatto con la commissione francese, poi sono parte della commissione etica britannica per l'app inglese, non potete immaginare quante persone invece la pensano esattamente al contrario. Cioè, finalmente, quando avremo l'app, la panacea. Sappiamo perfettamente che non è così. E l'ultima battuta, lì dove c'è questa app, non ha funzionato. A Singapore non ha funzionato. In Australia non ha funzionato. Per mille ragioni, se volete poi magari le possiamo un po' analizzare durante questa intervista, ma il fatto resta, allora è possibile che ancora circolino voci in Italia, in Francia, credo, un po', in Germania, in Gran Bretagna, aspettiamo l'app perché l'app sarà la chiave di volta della risoluzione? Assolutamente no. A proposito di governance digitale, vorrei riportare un po' la questione su una prospettiva più europea, anche a di fuori delle tematiche della pandemia del coronavirus. Il periodo che stiamo vivendo da 15 anni a questa parte ha visto una diffusione di tecnologie di sorveglianza che stanno sempre di più trasportando la nostra identità personale in uno spazio di altri. Fuori dal nostro controllo e molto spesso anche a nostra insaputa. La persona normale spesso non sa assolutamente cosa succede con i propri dati personali e in che modo vengono acquisiti. Ecco, secondo lei, l'attuale contesto normativo europeo, anche considerando il GDPR del 2016, è adeguato a far fronte a questo periodo che stiamo vivendo o possono essere auspicabili interventi ulteriori e sistematici? A me sembra che il GDPR abbia fatto un enorme passo avanti. Prima stavamo messi molto peggio. Il grandissimo passo avanti è, perdonare la battuta, è filosofico, nel senso proprio potente del termine filosofico. Per noi prima del GDPR avevamo una visione letteralmente ancora, se volete, tardo-seiscentesca, ma letteralmente, di che cosa significa avere la protezione di qualcosa. Qualcosa si protegge all'interno di un territorio. Quindi post-Westfalia, sovrapposizione, spazio fisico, spazio della legge. La legge finisce lì dove arriva il confine. Il confine determina quindi i limiti della legge. In un contesto del genere dove tu ovviamente lavori nel XXI secolo, cibre, spazio e tutto il resto, ma poco prima, quando ero, ad esempio, nella commissione con Google sul diritto all'oblio, io ricordo ancora la Francia, in quel contesto, discutere, l'autorità per la protezione dei dati francese, discutere in termini letteralmente alla Richelieu, cioè ai tre moschettieri, cioè Westfalia appunto, che i dati europei, no. Questo avviene in Europa e quindi Google avrebbe dovuto togliere i link a informazioni europee da Google.com. Ovviamente Google se ne è disinteressata per essere gentili, perché non funziona così. Allora che cos'è che ha fatto il GDPR? Ha sganciato la legislazione sui dati dalla geografia. È bellissimo. Guardate che concettualmente è un colpo di genio, cioè vuol dire che il GDPR ci ha fatto entrare nel XXI secolo. perché ha detto guardate che ovunque questi dati vengano trattati, manipolati, eccetera, se sono dati europei nel senso del cittadino europeo, Singapore, Australia, dove state state, si applica questa legge. Questo è straordinario. Allora in questa svolta epocale siamo usciti da Westfalia sostanzialmente e siamo entrati finalmente nell'infosfera o come lo dovete chiamare. Il GDPR ha fatto un lavoro bellissimo. Quando con il GDPR, cioè l'European Data Protection Supervisor, abbiamo, Giovanni Buttarelli, abbiamo messo su una commissione per il quadro etico relativo al GDPR, questo è stato uno degli elementi forti. Ovviamente poi è emersa esattamente la domanda che lei imponeva nel senso, adesso allora cosa facciamo? Questo è stato il, siamo sbarcati su questo post Westfalia. E allora, e adesso? E come abbiamo lavorato tanto, anche poco prima della commissione europea sull'etica dell'intelligenza artificiale di cui faccio parte, abbiamo fatto un progetto precedente che ha poi contribuito a quello della commissione europea, con una ventina di raccomandazioni, era un progetto molto mirato, su che cosa può fare l'Europa, quindi non era dedicato a chiunque, sull'etica dell'intelligenza artificiale. E piuttosto che tracciare limiti e barriere, tra l'altro un po' fantascientifiche, io mi sono anche dispiaciuto molto, a un certo punto nella commissione si parlava di mettere una linea rossa, una linea che non varcheremo mai, un limite a certe cose da fantascienza che non esistono, quindi fare la voce grossa su cose che non esistono è sempre molto facile. Non produrremo mai in Europa un'intelligenza artificiale conscia, ma neanche gli zombie allora per questo, ci sono tante cose che non faremo, e sono cose fatte bene, noi facciamo bene a non produrre zombie, detto questo non è che abbiamo quindi risolto nulla. Se invece su un versante molto più concreto, guardiamo un po' le raccomandazioni che avevamo fatto anche precedentemente all'Europa, il risultato è che ad esempio avevamo chiesto, non so se avverrà mai, di instaurare un'agenzia che guardi ai protocolli minimi per la gestione degli algoritmi che vengono utilizzati poi nel mondo industriale. Non è che non si possa fare. Avevamo ad esempio anche chiesto di istituire una procedura di auditing dell'intelligenza artificiale nei vari campi, dalla robotica al riconoscimento del linguaggio naturale, alle app di raccomandazione, ad esempio sui vari piattaforme e così via. senza elencare quale le 20 raccomandazioni che poi sono un po' noiose, tanto le abbiamo pubblicate poi, c'è molto che si può fare. A me quello che sembra manchi un po' una sorta di brutto cocktail di assenze, è un po' di volontà politica e un po' di visione. Voi capite che se non c'è la leadership e la leadership oltre ad essere assente, c'è anche una mancanza di visione, è un po' correre senza due gambe. Si corre male. Su questo vedrei molto bene invece un intervento europeo molto più robusto, molto più incisivo, sia di leadership sia di visione. C'è una leadership che faccia un lavoro a livello unione e abbia una sua direzionalità. La direzionalità secondo me è quella che poi ho discusso in questi giorni e di nuovo chiudo qua questa risposta. Ovviamente da filosofo ho una mia idea di come dovremmo mandare le cose, poi altri ne hanno tante, altre c'è il confronto. Il mio contributo personale, se volete, a questo dibattito è come un'etichetta un po' veloce, è questa cosa del verde e del blu, cioè mettere insieme politiche digitali che sfruttino, facciano leva su questa straordinaria tecnologia che abbiamo sviluppato, e ricordiamoci che è una delle cose più incredibili che abbia mai fatto l'umanità da tanto tempo, insieme ai problemi ambientali di tutti gli ambienti sociali, non soltanto quelli biologici, e anche artificiali, per l'infosfera e così via. Allora immaginate che da un lato ci siano i problemi di tipo ambientale, ad esempio giustizia sociale, equità sociale, ma anche inquinamento, ma anche fake news online, tutto quello lì che è ambientalismo, insieme a tecnologie digitali potentissime che potrebbero darci una mano a risolverli, allora questa è una visione in cui l'Europa potrebbe avere veramente un ruolo assolutamente di leadership. Noi che cosa facciamo invece oggi in Europa? Rincorriamo male, sempre in ritardo, e troppo lentamente non puoi vincere, corridori che sono già partiti e che corrono molto più veloci di noi, che sono l'America e la Cina. Ecco, fintanto che noi giocheremo a rincorrere loro sull'innovazione tecnologica, magari spendendo un miliardo di qua o due miliardi di sopra, per fare magari un centro di qui o un centro di là, cose che io non vorrei proprio vedere, l'ultima di queste brutte idee è facciamo una CERN per l'intelligenza di viaggio, di cui non c'è bisogno, sarebbe uno spreco di denaro infinito, intanto che avremo quella politica lì, vuol dire non avere idee, vuol dire pensare che con tanti soldi io li impiego da qualche parte e vedrai che la soluzione arriva. Non è mai così, non è mai stato così, i soldi arrivano dopo, prima le idee, poi i finanziamenti, non viceversa. Su questo c'è tanto da fare. Lei prima, il professore, ha citato Google e ha citato anche gli algoritmi, siamo effettivamente in un mondo in cui questi algoritmi, che molti non conoscono, non ne conoscono realmente le funzionalità, però condizionano la nostra vita. La loro diffusione tende ad aumentare, ovviamente. Lei crede che oggi quindi abbia senso ancora parlare di libertà di autodeterminazione, che ci sia lo spazio per parlare di libertà di autodeterminazione, o comunque ci sia un rischio in questo senso, cioè che questa libertà venga compromessa. Ecco qua, non che voglia essere a tutti i costi ottimista, ma diciamo c'è quello che gli inglesi chiamerebbero un server lining nella nuvola, no? C'è un aspetto positivo di tutto questo. È che noi, la nostra autonomia, parlando di pandemia, anche il nostro benessere, per troppo tempo l'abbiamo dato per scontato. Noi ci siamo un po' adagiati ed abituati a quanto si stava bene. Anche, soprattutto, con la lamentela del fatto che si stava bene, ma non abbastanza bene. Ora, basta avere dei genitori come me che hanno messo la guerra sul serio, nel senso che mio padre è del 34, potrei rimanere nel 44 aveva 10 anni, e nel 44 aveva 11, quindi bambino, ma non incapace di ricordare i carri armati americani a Roma, che tutto il mondo sembra di gran lunga molto più simpatico, facile, meno problematico. Ecco, noi abbiamo attraversato, la generazione mia, dei miei studenti, un periodo che, pur con tutti i limiti, i sacrifici, le difficoltà, non è stato così malvagio, se guardiamo alla storia. Oggi, le cose vanno molto male. E vanno male per tante ragioni, pandemia e tutto il resto, ma anche nel caso, ad esempio, del controllo della nostra autonomia. Allora, vi dicevo, il serverlining qual è qui? È che ci accorgiamo di quanto ci sta a cuore. È un po' come quello che, non avendo mai avuto mal di denti, ha mal di denti per la prima volta, vado al dentista, sta meglio, e il giorno dopo ringrazia il cielo di non avere il mal di denti. Ecco, io purtroppo, forse da filosofo, sono un po', se volete, consapevole, ci insegno un po' la filosofia, che noi conosciamo soprattutto riconoscendo l'assenza, non la presenza. se tu sei sempre abituata, abituato a qualcosa, dopo un po', non la noti più. Voi immaginate, con un'analogia, un rumore costante, fisso, la stessa nota, che inizia a, in un certo momento, dopo un po', non la senti più. L'orecchio si abitua, quella nota, non la senti più, letteralmente. e con noi la nostra autonomia è un po' come questa nota, che negli ultimi anni, grazie al fatto che abbiamo vissuto nel pieno Italia, per quanto ci siamo lamentati e tutto il resto, in democrazia, cioè con tanta libertà di poter esprimere anche cose sciocche, di poter anche essere anti-vax, di poter anche mandare una ballerina in Parlamento, che poi tanto ballerina non era, insomma, ai miei tempi, e così via. Ecco, questa libertà di cui abbiamo goduto tantissimo, oggi, nella nostra autonomia, ci accorgiamo di quanto possa essere a rischio. Allora, questo non è, vuol dire, ottimismo a tutti i costi, però è il punto di partenza. Dice, perché dice, beh, allora, non è una cosa non importante, a me dispiace. Secondo punto della risposta, quindi, punto numero uno, nel dolore, uno si accorge di quanto stava meglio prima. Questa consapevolezza non è da buttare via. nel momento in cui siamo completamente e costantemente spintonati da recommender systems di ogni tipo, TripAdvisor, Amazon, Google, cioè, ognuno vorrebbe che tu facessi una cosa piuttosto che un'altra, ti dice, ma dai, questo è un agging continuo. Ti rendi conto di quanto prima nessuno ti stava seccando quando finalmente potevi fare le tue scelte come volevi, quando volevi. Ma che cosa si può fare? Ecco, io ho qui un po' di, una ricetta in cui mescoliamo almeno tre ingredienti, sarebbe importante. Uno, un po' di legislazione, due, un po' di autoregolamentazione, tre, un po' di educazione. Voi immaginate, no, Laura è nata oggi, Laura, che è nata oggi, fast forward per 18 anni, Laura finalmente compie 18 anni, per 18 anni, da oggi in poi, lei è stata letteralmente bombardata ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno, da, ti piace questo? Potrebbe piacerti quest'altro. Hai fatto questo? Perché non fai ancora quest'altro? Hai comprato questa cosa? C'è anche quest'altra da comprare, eccetera, eccetera. Li conosciamo benissimo questi meccanismi. Non sono delle teri lì per lì, ma dopo 18 anni, tu, Laura, l'hai cucinata, bollita come la ragotta, va bene? Pian pianino, alzando, alzando, alzando la temperatura. Tra 18 anni, quanta autonomia Laura potrà ancora esercitare? Mario, Giovanni, così via. Se per 18 anni sarà costantemente, ricordate la gocciolina sulla pietra? C'è anche una gocciolina. 18 anni dopo c'è un buco così. Quella gocciolina della raccomandazione. Ting, 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 ting. Ecco, quindi, un po' di legislazione, piano, fermi tutti, non esageriamo, no. Ad esempio, ce l'abbiamo nella pubblicità dei giornali, dove c'è scritto sopra, pubblicità, tutto subito, alzi le barriere, il radar, attenzione, questo magari mi dice anche cose corrette, però insomma, mi racconterà una storia piuttosto che un'altra, non che poi il resto del giornale sia chissà che, però insomma, almeno quello te lo segnala, chi ti dice che questa è porcheria. Quindi, un po' di legislazione si può fare, l'abbiamo fatta in altri contesti, va bene. poi, un po' di autoregolamentazione, bisogna anche aspettarsi che chi ha questi potenti strumenti, li utilizzi in maniera un pochino più ragionevole, e poi un po' di ragionevole educazione. Io su questo ultimo punto non porrei troppo l'accento, perché lo fanno tutti. Cioè, non vorrei che si finisse con dire c'è un problema e la soluzione sta sulle tue spalle, caro utente, caro consumatore. Non è così? Ricordiamoci che, e questa è l'ultima cosa che aggiungo a questa domanda un po' complessa, la responsabilizzazione, il cosiddetto empowering, è anche un bellissimo trucco per scaricare la responsabilità sulle spalle altrui. Se io sono una piattaforma e voglio liberarmi di un problema, la cosa più facile del mondo è che empower l'utente, così poi è l'utente, a doverlo risolvere. Immaginate, e questo è un dibattito che c'è stato, tra l'altro abbastanza pubblico, molto molto tempo fa, con Facebook, che voleva empower i genitori per il controllo dei minorenni, affinché chi era sotto i 13 anni non si iscrivesse su Facebook. Ecco, il dibattito ho partecipato anch'io e a cui continuavo a spiegare, guardate, non è empowerment, è scarico di responsabilità. Poi i genitori ce la possiamo anche riprendere con loro, però chi è intorto e deve, tra virgolette, pagare il costo di questo errore è Facebook. E Facebook li deve controllare. Nel negozio che vende alcolici o sigarette a minori, qui in Gran Bretagna, tu i genitori li puoi anche sgridare brutalmente, ma il negozio chiude, che è diverso. Va bene? Allora, un po' di legislazione seria, fatta bene, un po' di autolegumentazione anche in vista della legislazione, perché quando tu aumenti come dire, il volume della legislazione, chissà dall'altra parte, cerca anche di evitare la legislazione successiva, dice va bene, ho capito, sai che faccio allora, meglio che non ci arriviamo proprio alla legislazione, mi fermo prima. E un po' anche come dicevo, di educazione di chi queste cose le usa, però non troppo accento sull'educazione, io non ne posso più di sentirmi dire tutte le volte educazione, gli utenti, l'utonto, come si diceva, e la gente, e santa miseria, ma quanto tempo c'ha la gente per passare su queste cose? Non è fatto così, una buona società, la gente la protegge, non la empower, per poi lasciarla lì che quando gli errori arrivano è colpa tua. Ecco professore, per spostarci più magari su questioni di società e impatti a cui tutti potremmo assistere anche senza doverci sforzare più di tanto, mi permetto di chiederle qualche altro consiglio a livello legislativo, politico, diciamo, sempre riguardo alla governance, ai temi del suo libro Il verde e il blu, quindi sul tema dell'ecologia, magari dello sviluppo urbano, sostenibile, futuro, parlando anche di assenza o abitudine all'assenza, come citava lei poco fa, di recente ha parlato anche dello sforzo che l'uomo fa o che potrebbe fare per andare incontro al plasmare il mondo per renderlo conforme alle necessità dell'intelligenza artificiale, lei faceva l'esempio di auto a guida autonoma ad esempio e la necessità secondo determinate aziende evidentemente di dover superare i limiti attuali proprio dello spazio che ci circonda per andare incontro a queste tecnologie, quindi il rischio sembrerebbe essere quello di arrivare ad un mondo in cui non è più la tecnologia essere al servizio dell'uomo come dicevamo prima ma l'uomo ad essere al servizio della tecnologia e addirittura doverle creare lo spazio di esistenza e di sussistenza, come pensa che può essere mitigato questo se lo considera come un rischio? a me sembra che sia un rischio serio e come tante cose che abbiamo detto oggi e che in realtà non vengono dette poi in altri luoghi purtroppo si tratta di rischi molto seri ma anche un po' silenziosi cioè di quei rischi che crescono lentamente nel tempo e quindi non fanno notizia ecco questo è appunto di chi si è adatto a chi di come stiamo trasformando un ambiente a misura di macchina o di tecnologia piuttosto che viceversa non è una cosa che domani qualcuno si sveglia la mattina e c'è Cambridge Analytica va bene c'è oddio che è successo guarda scandalo è una piccola una trasformazione di qua e in questo slittamento continuo nel tempo è secondo me forse la pericolosità maggiore del rischio in questione perché noi ce ne accorgiamo ora noi poi siamo tra l'altro come diciamo specie mammifera se volete per essere un po' deligranti così ma siamo altamente adattabili noi ci adattiamo veramente a tutto basta leggere i primolevi ci siamo adattati ai lager si riesce a un certo punto a trovare normale dopo anni l'orrore più profondo potete immaginare quanto sia facile adattarsi a un mondo che è fatta a misura di macchina piuttosto che ecco allora in questo contesto la misura che bisognerebbe fare un po' da seminario tra noi dispero che il politico di turno che guarda ai piedi al massimo due metri in là possa avere uno sguardo come dire di qui a cinque anni ma capire subito che ci vuole di nuovo anche qua un progetto cioè disegnare dove vorresti andare dove vorresti arrivare e quindi poi in versione reverse engineering io voglio arrivare lì quali sono i passi che da qui mi portano lì non sto facendo dei passi e poi via via cercare di adattare la situazione a dove mi porta il vento allora per quanto riguarda ad esempio le smart cities tanto per essere un po' chiari sono stati fatti degli errori banali ma proprio di cose che tu dici ma com'è che non ci avete pensato prima me ne porto uno tanto per essere concreti quanto è bella l'illuminazione smart notturna in città far risparmiare soldi la luce si spenge quando tu arrivi in quella strada la luce si accende sembra normale sembra intelligente non ha funzionato ad esempio a Barcellona ci hanno ripensato perché? ma perché la ragazza la donna o la persona che si sente un po' diciamo a rischio vede una strada completamente buia a destra una illuminata a sinistra e prende quella a sinistra non aspetta di arrivare lì perché non vede chi c'è non sa chi c'è e se poi la luce non si accende e se in quel buio c'è qualcuno che forse c'è dubbio e quindi le strade a illuminazione intelligente erano semplicemente abbandonate non ci vuole un genio ora certe cose le scopriamo anche facendo ci mancherebbe e si torna indietro va bene pazienza però ho capito che queste sciocchezze che dicevamo avevano una questione di design vuol dire che un quartiere è escluso rispetto a un altro allora tornando poi a questioni molto più generali per noi a me piacerebbe che qualcuno ci pensasse un po' prima e in maniera un po' più intelligente a Toronto la Smart City quella che poi era stata messa su dall'agenzia interposta ma Google sostanzialmente l'hanno chiusa perché? perché la reazione è stata violenta altrimenti Google stava creando un ambiente in cui c'era una dataficazione una ingegnerizzazione del dato degli individui talmente ad alto controllo e così poco rassicurante che alla fine la popolazione ha detto no grazie è inutile che vado a finire in un esperimento a 360 gradi di come potrebbe essere la mia vita immerso nell'acqua digitale come se fosse un pesce nella piscinetta ecco queste cose però a me dispiace perché poi portano alla reazione opposta dice vabbè allora niente non si fa fermi tutti smettiamo stacca la spina non è così si può fare tanto bene questa roba ma andrebbe fatta con tanta lungimiranza con più programmazione con più intelligenza diciamo proprio di architettura invece mi pare che ci sia anche tanta vediamo che succede è un po' la cultura anche qua scusate mi sembri di lungo chiudo velocemente è un po' la cultura da cui veniamo anche nel senso che fino all'altro ieri parlando letteralmente con gente a Facebook c'era ancora l'idea che questi qui fossero una sorta di start up cresciutella dico hai miliardi di persone un click di distanza da quello che vuoi fare oggi non ti puoi permettere di rompere nulla no rompiamo tutto velocemente ricominciamo ma che sei matto sei fermo con le mani quando il mondo dipende da come d'alsi la mattina letteralmente a come vai a dormire la sera responsabilità enormi però c'era ancora una mentalità ma letteralmente se tu parli con qualcuno di questi qui ancora da start up vediamo che succede debita testing proviamo poi sfasciamo ricominciamo non è così il mondo è fragile e in questo senso allora mi dispiace battere sullo stesso argomento ma più design più programmazione più ideazione ma non quinquennale sovietica ma proprio di progettazione pensare bene a dove si vuole arrivare poi ovviamente gli adattamenti vanno fatti ma senza un po' di progettazione non programmazione progettazione le cose verranno sempre fatte dall'oggi al domani e i rischi si vedono infatti quando lei parla di progettazioni a me e penso anche a Matteo che lavora nell'ambito della privacy si viene in mente la privacy by design e quanto sia ancora difficile dopo due anni dall'applicazione del regolamento trasmettere questo messaggio di progettare fin dall'inizio un sistema che sia in conformità all'innovativa sulla protezione sempre sul tema dell'intelligenza artificiale professore lei ha scritto più volte che l'intelligenza artificiale non è il miracolo ma non è neppure la causa di ogni male quindi se lei dice che a me è un miracolo non dovremo più parteggiare per i singolaritari che per chi ci ascolta sono quelli che insomma dicono che l'intelligenza artificiale supererà l'uomo comunque avrà la supremazia le macchine avranno una supremazia sui due uomini come tutte le stagioni passerà anche questa e poi ci chiederemo qualche anno come abbiamo potuto pensare cose tanto sciocche è un po' l'infotazione io lo capisco è anche affascinante è bello poi c'è tanta bella fantascienza di cui io sono tra l'altro un consumatore eccessivo ma appunto lasciamola la fantascienza è una cosa molto bella è simpatico anche speculare su questi argomenti ma poi quando ti rendi conto che in realtà non si riesce a far funzionare neppure letteralmente una trasmissione zoom decente perché gli algoritmi che ci stanno dietro non riescono a ottimizzare il canale capite che il mondo è proprio un altro io qua forse la cosa che andrebbe fatta capire ma mi dispiace se mi ripeto rispetto a altre cose che ho detto in passato purtroppo speriamo che questa cosa non l'abbiano sentita già tutti e l'errore sull'intelligenza artificiale culturale filosofico che è stato fatto ma è stato fatto anche a ragione veduta perché bisognava venderla questa intelligenza artificiale quindi un po' di enfasi è stato quello di far pensare l'intelligenza artificiale come se fosse l'unione chiamiamo il matrimonio tra ingegneria e biologia io ho un prodotto ingegnerizzato un artefatto hardware o un pezzo di software se volete o l'intelligenza chiamiamo l'animale ma anche quella di un criceto neanche quella umana dall'altro e finalmente no l'intelligenza artificiale è questo matrimonio tra l'artificiale dell'artificialità dell'ingegnerizzato e la natura biologica dell'intelligenza questo se un giorno dovesse avvenire sarebbe letteralmente un miracolo straordinario quello che invece è avvenuto è esattamente l'opposto cioè noi quello che siamo riusciti a fare è stato esattamente sganciare cioè far divorziare la capacità di risolvere problemi con successo in vista di un fine e questa frasetta capite che è tutta tecnica capacità di risolvere problemi con successo perché se no in vista di un fine da la necessità di essere intelligente nel farlo questa è una cosa bellissima e il miracolo è tutto nostro nel senso che è un miracolo umano perché fino all'altro ieri se tu volevi giocare a scacchi dovevi essere intelligente oggi no cioè questo letteralmente questo cosino qua che ho qua davanti questo mio iphone gioca a scacchi meglio di chiunque io abbia mai incontrato eppure spero che chiunque anche il singolarista più sfrenato voglia concedere che l'intelligenza di quell'iphone è zero e come mai perché appunto c'è stato questo divorzio allora adesso vi dirò una cosa che spero non sia troppo complicata abbiate pazienza va detta un vecchio argomento in passato di chi difendeva l'intelligenza artificiale mi state imbrogliando ogni volta che io raggiungo un certo livello di successo fai conto scacchi parcheggio la macchina guido il drone voi mi spostate l'asticella e mi dite quella non è intelligenza non è giusto allora voi fissate una cosa che io devo fare io ve la faccio con l'intelligenza artificiale e finalmente vi dimostro che posso farlo questa argomentazione è del tutto sbagliata perché perché quello che sta avvenendo è esattamente se ricordate divorzio non matrimonio che ogni volta che tu sei riuscito a far divorziare no la necessità di essere intelligente dalla capacità di risolvere un problema giustamente hai avuto successo ma hai avuto successo nel divorzio quindi chi come me ti ricorda hai appena operato un divorzio con grande successo quella quindi non è più intelligenza non ti può arrabbiare perché è esattamente la regola del gioco allora chi domani mi dice ma hai visto il robottino adesso ne ho uno esempio che da tanti anni 15 anni fa me l'hanno regalato i miei studenti che pulisce dentro casa rumba funziona benissimo intelligenza artificiale niente gli ultimi modelli già sono un po' più intelligenti vagamente tra l'altro forniscono anche i dati sulla tua casa a chi produce rumba dimensioni eccetera e poi ti arriva a casa la nota che ti dice data la dimensione della tua casa noi pensiamo che questo genere di pulizia dei pavimenti con questo sapone possa essere una buona idea come hanno fatto a saperlo perché rumba tu non ti sei accorto clic 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 hai autorizzato la tua rumba a mandare i dati sulla composizione del tuo appartamento o della tua casa a chi la produce torniamo all'argomento precedente torniamo a noi allora la mia povera rumba giustamente il pavimento lo pulisce benissimo facciamo finta che sia intelligenza artificiale non lo è ma insomma per fare un esempio semplice appunto parte di questo divorzio allora la vecchia argomentazione non è giusto che ogni volta che io riesco a far fare qualcosa a una macchina tu mi sposti e mi dici come dire la barra e mi dici questa non è intelligenza va vista esattamente al contrario è verissimo che non crediamo che un compito non possa essere svolto a intelligenza zero io credo che qualsiasi compito che noi facciamo lavorativo possa essere in teoria in maniera molto più non fantascientifica trasformato in qualcosa che sostanzialmente poi oggi è un pattern recognition e quindi trasforma dati in informazione attraverso una rete neurale secondo me si può fare tantissimo i limiti non sono affatto chiari allora allora è un altro percorso è a intelligenza zero questo è straordinario e lo sappiamo benissimo che questo è avvenuto solo oggi perché gli algoritmi che abbiamo oggi io letteralmente li studiavo li insegnavo negli anni 90 perché erano negli anni 60 cioè le reti neurali da tanto che ci stanno in giro è che non avevamo né la capacità computazionale per farle girare perché sono molto consumano tantissimo né soprattutto avevamo la massa di dati che abbiamo oggi questo bisogna ricordarlo a chi ci ascolta i dati che abbiamo oggi li abbiamo creati se tu fatto 100 il quantitativo di dati esistente nel mondo per tutta la storia umana il 95-99% di tutti i dati mai messi insieme li abbiamo creati noi negli ultimi 20 anni questo include anche ogni parola mai proferita da qualsiasi essere umano su questo pianeta negli ultimi 20 anni noi abbiamo centinaia di zeta byte di dati e tutta la storia umana dal giorno 1 all'altro ieri ne ha fatto uno di zeta byte ecco date queste dimensioni ci credo che l'intelligenza artificiale oggi riesce a fare cose che se fosse fatta da un essere umano richiederebbe intelligenza eccetera ma traduzione esempio di testi ma com'è che Google è riuscito a fare la traduzione di testi così bene se ve lo ricordate appunto è perché è partito da dove? dai testi della legislazione europea che hanno tradotti benissimo in tante lingue diverse poi ovviamente ce lo ricordiamo che Google ha anche tutta la banca dati di tutti i libri del mondo grosso modo e quanto serve pensare che in cinese in francese in inglese in tedesco quella frase lì funziona così un po' di Neonetworks bingo traduzione che viene abbastanza bene più formale è il testo meglio viene questa chiacchierata da noi probabilmente viene un po' strana la poesia vengono delle cose divertentissime infatti tradurre appunto non tante perché quello ve lo dà semplicemente direttamente in versione no vedi archivio ma una poesiola scritta da una bambina l'altro ieri e vedete quello che succede l'ironia cioè le cose strane ovviamente siccome non c'è nessuna semantica ma tornando a noi l'intelligenza artificiale non è è tanta artificiale non è intelligente ed è lo straordinario successo di un divorzio quel divorzio è esattamente in quello spaccato è lì che stanno i problemi che abbiamo oggi etici legali io scherzando e chiudo qua dico in genere che se fossi intelligente dormirei più tranquillo è come nel suo esempio che ha fatto in un altro saggio il gioco degli scacchi e il gioco del calcio ah certo il gioco degli scacchi sì è una cosa che poi chi si occupa di legge di normative eccetera conosce dal primo anno di studi ma le regole non sono tutte uguali ci sono le regole che costituiscono un'azione e regole che invece lo circoscrivono lo vincolano le regole del calcio sono vincolanti ma non fanno il calcio io posso tirare un calcio a un pallone e chi se ne importa le regole degli scacchi lo costituiscono non posso giocare a scacchi senza le regole non c'è un un muovere i pezzi prima dopodiché gli do una sistemata e lo vincolo attraverso delle regole allora lì dove ad esempio questo è un trucco che DeepMind ha sfruttato benissimo ma non un trucco una capacità ecco perché DeepMind continua a fornare cose straordinarie su board games ma perché il board game è esattamente costituito dalle regole non è calcio o pallavolo o tennis dove tu prima c'hai un'attività e dopo arrivano le regole i board games sono prima arrivano le regole e poi c'è l'attività essendo regole costitutive dell'attività stessa è chiaro che se tu hai le regole e hai tanta computazione tanta rete neurale e tanta capacità di assorbire dati tu puoi generare da te i dati del gioco stesso oggi per sviluppare un sistema che gioca a scacchi meglio di qualunque maestro il grande campione esistente al giorno ad oggi passano letteralmente poche ore ma perché? perché è come se uno veramente sparasse ai moscerini con l'atomica ti credo che fai fuori il moscerino la potenza che hai messo in campo e la straordinaria abilità di generare tutte le possibili mosse eccetera eccetera su quella base regole costitutive e quindi il sistema impara gioca a miliardi di partite migliorando costantemente eccolo lì che oggi gioca meglio di chiunque altro quando invece si tratta di andare a guidare per strada le regole del traffico non sono costitutive sono regolative sono vincolanti e lì infatti io non ho grande ottimismo a meno che tu non sia in California su una strada liscia lunga con la bella illuminazione non c'è nessuno allora a quel punto certo spingi il buzzante e vai ma dalle parti dove sono cresciuto io a Roma non la vedo bene ecco no poi Roma è piena di buche quindi è meglio evitare poi quello che passa con il rosso basta quello che fai l'intelligenza di vita che fai frena eccetera eccetera in senso lì dove infatti lo dicevo nel contesto della medicina la medicina resterà fin tanto che noi non avremo la capacità di generare i dati attraverso regole costitutive ci siamo pensate a letteralmente monopoli scacchi dama ma dovremo sempre avere chiamate regole regolative cioè un'interpretazione scientifica del perché ad esempio c'è stato ci sono certi certi tipi di cancro al cervello le nostre tra virgolette regole cioè le nostre leggi e spiegazioni scientifiche avvengono dopo l'evento non lo costituiscono non costituendolo tu avrai sempre bisogno di dati empirici è per questo che oggi chi fa che si occupa appunto di computer science e medicina cioè di salute le grandi aziende dall'altro questo include google facebook apple tutti gli altri hanno sempre bisogno di accesso a grandi banche dati altamente curate altamente affidabili che sostanzialmente stanno nelle mani poi non del privato ma dello stato quindi il desiderio ad esempio di avere accesso al nostro paese qua in Gran Bretagna alle banche dati del servizio sanitario nazionale è altissimo ma perché senza quei dati empirici tu poi i tuoi algoritmi non li puoi far girare non è come a scacchi dove la partita te la giochi tra algoritmo e algoritmo e tutti i dati la banca dati te la crei da solo fino all'altro ieri io ancora ricordo si discuteva diciamo ma Deep Blue vince a scacchi perché ha una grande banca dati non è più così i nuovi sistemi che giocano a scacchi non hanno mai visto una partita giocata nella vita reale hanno giocato tanto con se stessi punto sono quelli che si chiamano i dati sintetici grazie professore io avrei una domanda finale un po' provocatoria se vogliamo abbiamo cominciato a parlare di robot con Spot siamo figli a parlare di Roomba che è un altro robot anche se leggermente diverso e reti neurali intelligenza artificiale che poi non è così tanto intelligente sono tutti temi molto complessi che spesso sono al di fuori della portata delle persone che nella vita fanno altro quindi noi sappiamo che lei è un ottimista ma moderato un moderato ottimista la domanda è non sarebbe forse il caso di mettere un po' di paura alle persone normali tra virgolette far presente i rischi e quindi avere un po' di paura lei lei pensa che sia ancora giustificato dire non abbiamo paura oppure potrebbe esserci motivo di averne ma secondo me di paura ne abbiamo ne abbiamo fatta circolare anche troppo io non vedo tutto quello che vedo costantemente ad esempio l'intelligenza artificiale ma è sempre presentata come il robot che arriva e distruggerà il mondo ti porterà via il lavoro finirà appunto per dominare la nostra società sceglierà per te i titoli di giornale sono tutti così guardi sono tutti così io non ne posso più di sentire certe scemenze allora se vogliamo paura no ma responsabilità cioè compressione sì sarebbe bello se ci fosse ad esempio in Italia ne abbiamo parlato tante anche in passato un ministro senza portafogli per il digitale ovviamente l'Italia che pensa sempre che il digitale sia un di più io l'altro giorno lo paragonavo a sciare a cortina che è una cosa un po' da fighi oggi l'abbiamo capito possibile che lo dobbiamo ancora spiegare avete letta io spero che questo sia registrato tutto avete letta la lettera dei 16 intellettuali italiani la scuola e il digitale sì io perché sono una persona educata dico mi sono cascate le braccia ma ancora così ragioniamo scritta in un italiano ottocentesco con un'impostazione appunto da spauracchio vedi paura cioè crei qualche cosa che non esiste la scuola diventa una scuola da smanettoni oppure l'intelligenza artificiale arriva e ti consumerà la vita allora meno paura e più conoscenza io la vedrei molto meglio invece se avessimo un po' di consapevolezza distribuita i giornalisti facessero meno un lavoro diciamo così di devo vendere quindi titoloni a tutto spiano nel bene nel male e e la politica decidesse di investire sul serio in Italia del digitale che è veramente l'ho già detto una volta saggezza da nonna papera non serve il filosofo di Oxford per capirlo vi assicuro l'ha capito chiunque tranne la nostra politica che ancora tratta il digitale come un di più un extra una cosa che se c'è tempo se ci sono soldi quando avremo fatto le cose serie che invece la siderurgia quella è una cosa seria in Italia su quello bisogna puntare tutto e certo perché il futuro dell'Italia è la siderurgia sicuro adesso non perché appunto la siderurgia non sia importante posti di lavoro eccetera eccetera ma per un progetto futuro vogliamo veramente investire in quel settore oppure magari no competenze capacità alta banda alta velocità rete e soprattutto start up e tutto il resto che si comporta in un mondo da ventunesimo secolo dell'infosfera allora chiudo qua ma meno paura più conoscenza e più investimento nel futuro non ci darà a nessuno ma almeno l'abbiamo detto credo che questo lancio e invito ovviamente ridondante ripetitivo per quanto possa valere alla politica sia il modo migliore per lasciarci in questo momento in questo invito aperto secondo lei professore mancanza di volontà politica o proprio il fatto che non ci sia la conoscenza nei piani alti per fare delle scelte è come prima un brutto cocktail tra incompetenza incapacità di vedere al di là delle Alpi letteralmente perché molto è che l'Italia è uno dei pochi paesi che pensa che il mondo finisca a grosso modo su Donald Brenner e questo ci rende molto critici di noi stessi ma anche molto arroganti su noi stessi e poi l'incapacità di progettare al di là della necessità pressante noi continuiamo a vivere in un'Italia in cui la politica ha 6-12 mesi di vita e non solo vuole rinnovare se stessa nel senso di mantenere le sue posizioni ma non è in grado letteralmente fisicamente cioè tu se sei adesso avete avuto sicuramente anche voi in varie occasioni sei paracadutata paracadutata in un contesto in cui arrivi il giorno prima letteralmente apri la valigia e hai la schivania comincia a controllare chi fa cosa dove quando come tra 6 mesi te ne vai che progettazione puoi fare qual è il respiro che puoi dare a riforme strutture investimenti ecco questo una versione della politica un po' lunga ti permette di fare anche qualche investimento letteralmente che va al di là del domani oggi poi c'è la pandemia ci mancherebbe come stiamo prima è tuttavia nel momento del dolore che tu pianifichi il momento della salute quando stai bene ti scordi e sei contento ti stai bene e pazienza e quando stai male che lì devi prendere l'opportunità per la rivincita quando la pianifichi quando stai perdendo nessuno pianifica la rivincita quando sta vincendo e quindi pianificare la rivincita ora che stiamo perdendo semplice no? perfetto benissimo siamo arrivati quindi ai saluti di questa chiacchierata non la definirei l'intervista perché è stato veramente piacevole professore abbiamo parlato di temi davvero importanti ma penso anche in una maniera accessibile per i nostri ascoltatori diciamo insomma ai nostri ascoltatori di continuare a seguire la nostra pagina su LinkedIn a breve avremo anche un sito molto nuovo di privacy network quindi la ringraziamo ancora al professor Floridi grazie a voi grazie e ringrazio anche Diletta e Matteo grazie a tutto il gruppo e continuiamo così ciao grazie